Mobilità è fase 3 in arrivo a Firenze a settembre, ulteriori 17 chilometri di corsie ciclabili. Si tratta dei percorsi riservati alle bici realizzati con la sola segnaletica, come previsto dal decreto rilancio per l'emergenza Covid-19 e con i fondi PON Metro rimodulati per implementare in modo significativo la mobilità ciclabile in vista della ripartenza autunnale delle attività, comprese quelle scolastiche. La segnaletica orizzontale e verticale sarà realizzata nell'ambito del Global Service nel mese di settembre. I progetti sono stati approvati in giunta comunale su proposta dell'assessore alla mobilità. Le corsie, secondo quanto reso noto da Palazzo Vecchio, saranno realizzate sul lato destro della carreggiata a fianco del marciapiede, nello stesso senso di marcia dei veicoli. In caso di strade a doppio senso quindi le corsie saranno due, una per semi carreggiata. I circa 17 chilometri saranno realizzati a settembre, in particolare nelle zone di Sa Iacopino, Piazza Puccini e Gavinana Viale Europa. E nel quadrante Porta Romana, Piazza Gaddi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Paolo Uccello. Ma non mancano corsie lungo viabilità importanti come quella su Viale Volta. Tutti gli aggiornamenti sul canale Telegram Muoversi nella città metropolitana di Firenze.